... Piccole e medie imprese ancora in debole ripresa, segno negativo sia per produzione che fatturato l'indagine congiunturale della CNA di Roma. Stato di salute e prospettive delle imprese romane. Le richieste alla prossima amministrazione capitolina sono gli argomenti discussi nel corso della presentazione dell'indagine congiunturale sulle piccole imprese di Roma promossa dalla CNA, il servizio di Marco Curatolo. Una ripresa ancora debole e pochi segnali di ottimismo. E' quello che traspare dall'indagine congiunturale sulle piccole e medie imprese realizzata dalla CNA di Roma in collaborazione con il Centro Europa Ricerche. 500 le imprese chiamate ad esprimere il loro giudizio sulla congiuntura del semestre passato e sulle aspettative per quello in corso. I dati mostrano che le speranze manifestate nel 2015 sono state in parte disattese e tutti i giudizi sui principali indicatori produzione, ordini, fatturato totale, destero, utile lordo mostrano un segno negativo. Per il prossimo semestre la fiducia del mondo delle piccole imprese è meno peggio di quello che potrebbe essere. Questo mondo delle piccole imprese è tenace e vuole rimanere legato al proprio mercato interno e proprio da quello si riparte. In difficoltà le imprese artigiane e quelle condotte da donne e cittadini stranieri. Va meglio per le aziende di maggiori dimensioni. Uno spiraglio di luce arriva sul fronte del credito. Due imprese su tre hanno avuto accesso a finanziamenti benché a condizioni peggiorate. Gli organici aziendali non hanno subito e non subiranno variazioni. Un imprenditore su tre farà investimenti. Questo semestre per la futura giunta a Capitolina arrivano richieste precise. Qualità dell'amministrazione, riduzione delle imposte per le imprese ma anche migliorare la viabilità cittadina e riqualificare le periferie. Pensare a Roma significa pensare a tutta Roma come un grande mercato, il più grande d'Italia e anche una grande opportunità.